A tentato di falciare due giovani studenti all'uscita di scuola, per questo è finito in manette un 32enne valdarnese per tentato omicidio. È successo lo scorso sabato, ultimo giorno di scuola a Montevarchi, attorno alle 14. Il tutto sarebbe partito da una lite con alcuni studenti. Ad infastidire l'uomo sarebbero stati gli schiamazzi di alcuni ragazzi che stavano festeggiando appunto la conclusione delle elezioni, anche suonando dei claxon. Ne sarebbe nato così un diverbio la situazione, poi degenerata, quando il 32enne ha ingranato la retromarcia per travolgere il gruppo, finendo la sua corsa contro la macchina dei giovani. Feriti lievemente un 19enne ed una ragazza di 17 anni. A notare la scena fortunatamente un poliziotto fuori servizio che è intervenuto per sedare gli animi e ha chiamato i rinforzi. Sul posto è così arrivata polizia, carabinieri e municipali che hanno riportato la calma e soprattutto arrestato il 32enne per tentato omicidio. Il GIP del Tribunale di Arezzo oggi ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.